Un passo di lato in questo grande dibattito sullo sciopero del 17 lo fa il leader della CISL Sbarra perché dice no, noi non partecipiamo a questa mobilitazione perché così si crea un danno ai cittadini e agli utenti protesteremo sì, ma di sabato, l'abbiamo intervistato. Segretario, perché non avete sostenuto la linea dello sciopero della CGL e della Will? Intanto perché diamo un giudizio diverso, articolato sui contenuti della legge di bilancio nel senso che vediamo molte luci e anche alcune ombre. Per sostenere la necessità di cambiare e migliorare la manovra economica abbiamo proclamato una giornata di mobilitazione nazionale con una grande manifestazione che terremo sabato 25 novembre a Roma a Piazza Santi Apostoli. Pensiamo sia il modo migliore per manifestare, evitando di creare disagi agli italiani, evitando di caricare di ulteriori sacrifici i lavoratori e le lavoratrici ed evitando di portare le tensioni sociali e lo scontro sindacale nelle aziende, nelle imprese che non hanno alcuna responsabilità sui contenuti e sulle scelte del governo con la manovra economica. Secondo lei quello di venerdì ha il sapore dello sopero politico? Noi rispettiamo le decisioni degli altri colleghi di CGL e Will. Per me il sindacato non può vendere sogni, ma deve fare riferimento alla realtà e nella difficoltà di questa stagione difficile conquistare risultati per le persone che rappresenta. Ecco perché pensiamo che il profilo dell'azione sindacale oggi in questo Paese non può che attestarsi sul terreno della responsabilità, del pragmatismo, del riformismo, dell'autonomia dalla politica, io inviterei tutti ad abbassare i toni e a concentrarsi sulle questioni che riguardano i necessari miglioramenti della legge di stabilità mettendo al centro il vero interesse delle persone, dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie.